Buonasera, bentornati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, guardiamo insieme quali sono le notizie principali di oggi. Un fulmine a ciel sereno su IEG, l'amministratore delegato Ravanelli annuncia le dimissioni, convocato per domani il CDA, il titolo perde in borsa. L'Itetra Condomini a San Termete finisce a Bastonate, due cinquantenni, al pronto soccorso. Acque di balneazione, si corre ai ripari, vertice in regione con i comuni costieri, dimezzare i tempi di analisi e combattere allarmismi e fake news. Conto alla rovescia per l'apertura del chiosco bar in piazza Malatesta a Rimini, entro metà settembre, la giudicazione. E in apertura allora andiamo in fiera, all'indomani della presentazione dei positivi dati del primo semestre. L'amministratore delegato di IEG, Ugo Ravanelli, ha presentato le proprie dimissioni, lo si apprende da una nota del gruppo. Aveva assunto il ruolo nell'aprile 2018 in vista della quotazione in borsa, poi arrivata. Per lui era stato un ritorno in fiera dopo le dimissioni della primavera 2016 dal ruolo di direttore generale. L'aver raggiunto in questo breve periodo tutti gli importanti obiettivi prefissati, ha spiegato e per me motivo di orgoglio. Oggi però non ci sono più i necessari presupposti per poter proseguire questa esperienza. Ravanelli detiene anche 5.000 azioni ordinarie della società. Per domattina il presidente IEG Lorenzo Cagnoni, che prima dell'arrivo di Ravanelli rivestiva anche il ruolo di amministratore delegato, ha convocato il Consiglio d'amministrazione per assumere le necessarie decisioni. E intanto il titolo di IEG in borsa ha perso oggi parecchi punti percentuali, oltre 6, scendendo dai 4,2 euro d'apertura a 3,94. Il minimo, pari a 3,82 euro, si è registrato poco dopo le 14 quando sono state ufficializzate le dimissioni. E arrivano in proposito anche alcuni commenti da parte della politica riminese, un fulmine a ciel sereno. Così il consigliere comunale del Movimento Nazionale per la Sovranità, Gennaro Mauro, commenta le dimissioni di Ugo Ravanelli. Mauro ipotizza forti contrasti all'interno del management legati alla successione del presidente Cagnoni. Il consigliere chiede anche ad Andrea Agnassi, sindaco di Rimini, socio di maggioranza di IEG con Rimini Congressi, di relazionare sull'accaduto in consiglio comunale. Ci spostiamo adesso a Bellari e Giamarina con due blizze sulla spiaggia. Le forze dell'ordine hanno infatti assestato un duro colpo all'abusivismo commerciale. Vediamo. Non più a Rimini, ma a Bellari e Giamarina. È lì che da qualche anno a questa parte si è trasferito l'abusivismo commerciale in spiaggia. Sono sempre di più infatti i venditori abusivi che popolano gli stabilimenti del lungomare Pinzon. Carichi di merce, dalla borsa taroccata all'abbigliamento uomo e donna, dagli aquiloni agli articoli di elettronica, si aggirano indisturbati tra ombrelloni e bagnanti. Nelle ultime settimane però, carabinieri, polizia locale e polizia di stato, che già da tempo ne studiavano abitudine e movimenti, hanno messo a segno sequestri record, grazie a veri e propri blitz sulla sabbia. Il primo risale è una settimana fa, quando i militari dell'arma e gli agenti della municipale hanno atteso l'arrivo in spiaggia dei venditori abusivi per poi uscire allo scoperto e recuperare circa 3.000 pezzi di merce, in gran parte taroccata. 20 gli stranieri identificati, 4 quelli regolari sul territorio, fermati e sanzionati. Individuati anche alcuni depositi di merce. La mercanzia, infatti, era stata ammassata dietro ai cespugli, in mezzo agli scogli o all'interno di cabine. È di questa mattina, invece, l'ultimo maxi sequestro in spiaggia effettuato dalla polizia locale di Bellaria e dai colleghi della polizia di stato. Questa volta, gli articoli tolti dal mercato sono stati oltre 4.000, mentre 18 i venditori identificati, per lo più bengalesi. Qualcuno alla vista degli agenti ha abbandonato la merce tra gli ombrelloni. 50 le borse con marchio contraffatto recuperate. In totale, il valore dei prodotti sequestrati ammonta 16.000 euro. La cronaca in primo piano hanno deciso di risolvere vecchi dissapori affrontandosi a mani nude in strada, solo che ad un certo punto è spuntato un bastone e ad avere la peggio è stato un cittadino albanese. Questa mattina a San Termete, poco prima delle 12, è andata in scena una lite condominiale tra un riminese di 50 anni, spalleggiato dal figlio, e un albanese, anche lui 50enne. Pare che i contendenti fossero in disaccordo da tempo su alcuni lavori da effettuare nello stabile. Così, incrociatisi all'ingresso, si sarebbero rivolti qualche parola di troppo. Gli animi si sono scaldati in fretta e dalle parole si è passati alle mani. Spintoni emanate reciproche, fino a quando padre e figlio avrebbero colpito il vicino con un bastone. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che sono poi intervenuti per separare i tre. Al termine della collutazione, i due 50enni sono stati trasportati al pronto soccorso di Sant'Arcangelo. I militari dell'arma stanno cercando di ricostruire con esattezza quanto accaduto. Non si escludono comunque denunce per lesioni. Ci spostiamo invece adesso a Bologna. Acque di balneazione, al centro di un incontro avvenuto in regione con gli amministratori dei comuni costieri. Obiettivo studiare metodi per evitare gli inutili e deleteri allarmismi scoppiati nel luglio scorso. Pronta anche una proposta da avanzare al governo. Tempi più stretti per l'analisi delle acque e un tavolo tecnico per definire nuovi protocolli di allertamento. Sono alcuni spunti emersi nell'incontro che si è tenuto in regione tra gli assessori Corsini, Gazzolo e Venturi e gli amministratori dei comuni costieri. Un vertice convocato per far sì che non si ripropongano in futuro allarmi e fake news come quelli che il mese scorso hanno provocato non pochi problemi sulla riviera adriatica. Al termine dell'incontro è nata la proposta di far approvare al governo una metodologia per ridurre dalle 48 ore attuali previste dalla normativa nazionale a 18-22 ore il ciclo di monitoraggio e chiusura analisi delle acque di balneazione, per dare così risposte più tempestive e per mettere il bagno in mare non appena le condizioni di sicurezza vengano ristabilite. Gli enti tecnici si sono detti disponibili a proseguire nelle sperimentazioni per ridurre i tempi delle analisi. Fermo restando, precisa la regione, che il 97% delle acque emiliano-romagnole sono eccellenti e che l'Emilia-Romagna è una delle poche regioni a non essere interessata da condanne della Corte di Giustizia europea. Per evitare la circolazione di fake news è stato messo sul tavolo anche l'impegno di avviare campagne di comunicazione concertate con tutti gli attori del sistema costiero per fornire una corretta informazione a cittadini e turisti. Ultimo aspetto, il potenziamento delle infrastrutture per la gestione delle acque meteoriche in modo da rallentare i deflussi in mare, ma anche un protocollo di allertamento per l'intera costa basato sugli strumenti di valutazione delle precipitazioni, delle portate dei principali corsi d'acqua e della diffusione dei contaminanti lungo la fascia costiera, messi a disposizione da Arpae, oltre che dai sistemi di telecontrollo delle aperture degli sfioratori. Una serie di proposte concrete, insomma, per lavorare da una parte alla tutela della salute dei cittadini, ma anche dall'altra a quella dell'indotto turistico. Dopo Riccione, anche il Comune di Rimini lavora ad un regolamento più severo nei confronti delle attività che non pagano le tasse. L'obiettivo è di farlo entrare in vigore in autunno e la proposta accoglie già il plauso della Confesercenti. Licenza sospesa a chi non paga le tasse. La norma a cui sta lavorando il Comune di Rimini è riportata sulle pagine del resto del Carlino trova il plauso della Confesercenti. La proposta, ha spiegato l'assessore Gianluca Brasini, sarà discussa in Commissione e Consiglio Comunale a breve, con l'obiettivo di farla entrare in vigore già in autunno. Scatterà la sospensione della licenza per almeno tre mesi per quelle attività che non saranno in regola con Tari, I, Mutassa di Soggiorno e con gli altri tributi locali, ma sarà punito anche chi subentra nell'attività di imprenditori che hanno evaso in modo sistematico. A dare forza all'azione del Comune è la legge approvata a giugno dal Governo, che dà più potere agli enti locali in tema di licenze e tributi. Il pugno duro non sarà per le attività in difficoltà ma volenterose, ma per i classici furbetti. I provvedimenti infatti non scatteranno alla prima inadempienza, ci saranno tutti i solleciti del caso e la possibilità di rateizzare il dovuto. Un segnale di civiltà ed equità, commenta Mirko Pari, direttore della Confesercenti Provinciale. Rimini, ricorda Pari, conta circa 8 milioni di evasione di Tari, circa il 20% dei riminesi non paga la tassa sui rifiuti. L'aspetto più odioso in questo dice che chi è in regola con il tributo si deve fare carico anche del costo del servizio di chi non paga la Tari. Importante è il fatto che nel regolamento sia previsto in caso di vendita che il debito tributario ricada sull'acquirente, questo per ovviare al problema delle chiusure e aperture di nuove società. Un regolamento simile a quello che sarà discusso a Rimini è già operativo a Riccione, attivato molto prima del varo della legge nazionale. Il comune di Riccione è partito con molto coraggio, commenta Pari, che si augura che ora tutti i comuni si adeguino perché il debito tributario ricade sugli enti locali ma anche sui cittadini. Le incertezze di governo colpiscono anche le gravi crisi aziendali. A pagare dazio anche i lavoratori della Mercatone 1 alle prese con il fallimento della Cernon a fine maggio e il nuovo bando di vendita dei negozi. Da un'alleanza giallo-verde ad una giallo-rossa, passando per l'ipotesi del ritorno alle urne. Se a Roma in questi giorni si decidono le sorti del governo, nelle case di tanti lavoratori prevalgono invece rabbia e rassegnazione. Il ribaltone di queste settimane incide, infatti, anche sui tanti processi avviati a livello nazionale per trovare soluzioni alle crisi aziendali come quelle di Alitalia, Exilva, Whirlpool e Mercatone 1. Solo quest'ultimo si traduce in 1860 posti di lavoro, oltre una sessantina dei quali nel riminese. Un calvario è iniziato a fine maggio, quando i dipendenti furono avvisati nella notte via WhatsApp del fallimento della Cernon Holding, la società che nell'agosto 2018 aveva acquistato 55 punti vendita dopo un commissariamento lungo circa quattro anni. Un'estate, quella del 2019, che i lavoratori hanno visto tra preoccupazione e mobilitazione, anche davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Primo passo, la riacquisizione del gruppo da parte dei commissari con i contratti da riportare a prima dell'ingresso di Cernon. Poi, l'attivazione degli ammortizzatori sociali a dare un po' d'ossigeno. Tutto bene? No, purtroppo, perché la cassa integrazione è erogata sulla base dei nuovi contratti part-time firmati dopo l'accessione e, di conseguenza, le cifre sono in molti casi ridicole. Alcuni lavoratori si trovano a vivere con 400 euro al mese, meno del reddito di solidarietà. Nel riminese sono almeno una ventina gli ex dipendenti in difficoltà. Su sollecitazione dei sindacati, i comuni hanno attivato referenti ad hoc a cui queste persone possono rivolgersi per fare domande di contributi. Un palliativo, però, non la soluzione. Sul piatto resta la questione lavoro. Al momento, le uniche certezze sono la cassa integrazione fino alla fine dell'anno e il bando di vendita dei negozi in scadenza al prossimo 31 ottobre. Sembra, però, che non ci sia la fila di acquirenti. Se ne potrebbe sapere di più all'incontro previsto per il 16 settembre al Ministero per lo Sviluppo Economico. La crisi di governo potrebbe farlo saltare. L'ennesima beffa per i lavoratori. Sono una decina le offerte arrivate al Comune di Rimini per la gestione del chiosco di Piazza Malatesta. A breve dovrebbe avvenire l'aggiudicazione. Intanto sono ripartite anche i lavori per il fossato del castello. Entro metà settembre si saprà il nome di chi gestirà il chiosco bar di Piazza Malatesta nella zona denominata Giardino del Castello. Il Comune nei mesi scorsi aveva optato per la procedura negoziata con lettera di invito e senza bando. Attualmente fa sapere l'amministrazione sia nella fase della verifica del piano economico finanziario delle offerte arrivate. Circa una decina. La durata della concessione sarà di otto anni a decorrere dalla stipula del contratto e il gestore corrisponderà al Comune un canone annuo di almeno 8.000 euro più IVA. Saranno possibili infatti proposte al rialzo. A pesare di più 80 punti su 100 sarà però l'offerta tecnica. Aredi e utenze saranno naturalmente a carico del gestore, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria. Complessivamente il chiosco, rivestito in lamiera di rame ossidata, ha una superficie di 44 metri quadri più 50 di Deor. Chi lo gestirà dovrà garantire un orario minimo di 14 ore giornaliere nei mesi estivi, di 12 ad aprile, maggio e settembre e di 9 nei restanti mesi. L'obiettivo dell'amministrazione è quello infatti di farne un luogo di socializzazione per portare sempre più persone a vivere la riqualificata piazza. Tempi stimati per l'apertura? Difficile a dirsi, forse entro l'autunno. Intanto, restando in zona, sono ripartiti lunedì i lavori di valorizzazione dell'area dell'antico fossato di Castel Sismondo. Dopo la rimozione dell'asfalto del parcheggio e la demolizione della rampa realizzata negli anni Ottanta che conduceva alla porta del soccorso, si procederà con i lavori che riporteranno alla luce le mura lato ovest del castello, con uno scavo di circa 3 metri. E noi siamo arrivati in conclusione, come sempre vi ricordo per tutti gli aggiornamenti il nostro sito newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il video.